Ancora una mostra a Campomorone dedicata alle donne. Avevamo cominciato gli anni scorsi con una mostra proprio sul lavoro delle donne all'interno delle campagne e nelle fabbriche della Valpolcevara, poi c'era stata la mostra sulla resistenza negata alle donne, per non parlare di tutte le mostre dedicate alle donne, le donne pitrici, nonché le donne che hanno fatto parte della nostra storia, parlo in particolare di Alice Noli. Questa è la mostra che abbiamo voluto fare proprio per ricordare il settantesimo anniversario del voto alle donne. Un appuntamento importante, finalmente il riconoscimento di un diritto importante alle donne, delle quali sono andate veramente orgogliose. Noi abbiamo visto proprio nella giornata di presentazione un filmato applicato alla prima giornata nelle quali le donne hanno potuto votare l'orgoglio che era sui loro visi e con quale e quanta consapevolezza sono andate al voto. Quindi qualcosa di importante proprio per ricordare il riconoscimento di un diritto importante alle donne. Grazie.